Non te lo dico chi viene ospite dopo, e la guardi l'intervista. Il santo del giorno è San Bacco Dat, il giovane. Non te lo posso dire prima, segui il programma e poi vedi chi c'è ospite. Bacco nacque in una famiglia palestinese cristiana. I suoi familiari apostatarono, abbracciando l'Islam, mentre lui si ritirò a Betlemme, prendendo il nome di Baccus. Ritornato a Gerusalemme, riuscì a ricondurre tutti i familiari alla fede cristiana, tranne uno che lo denunciò alle autorità islamiche e quindi lui fu decapitato. Quando si dice amore fraterno. Adesso diamo la linea all'Orem Ipsum, subito dopo torniamo noi con una fantastica intervista di Dimmi Quando e come sempre vi auguriamo buona televisione.